Grande successo per la serata delle fonti awards tenutasi lo scorso giovedì 4 aprile a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo Il ruolo del penalista oggi e le nuove sfide, moderato dalla giornalista Deborah Rosciani che ha visto la partecipazione di Chiara Padovani, fondatrice studio elegale Padovani, e Dario Bolognesi, fondatore studio bolognesi, avvocati penalisti d'impresa. La serata è proseguita con la cerimonia delle fonti awards diritto penale che ha visto la premiazione dei principi del foro. Sono stati meriti e la benegazione per la professione a motivare l'assegnazione del riconoscimento più ambito della serata, il premio alla carriera diritto penale accompagnato da una standing ovation. Grazie alle fonti, è questo uno dei momenti più emozionanti della mia vita, ha commentato la professoressa avvocato Paola Severino. Boutique di eccellenza dell'anno Rising Star diritto penale, il premio viene assegnato a studio legale avvocato Matteo Mangia e ringrazio Silvia che consegnerà i premi. Studio legale avvocato Matteo Mangia per essere una realtà emergente di spicco nel panorama dei penalisti italiani. Il fondatore ha consolidato una lunga esperienza specie nel settore finanziario ambientale della sicurezza del lavoro relativamente al quale ha prestato recentemente assistenza in processi di forte risonanza mediatica. Buonasera, buonasera a tutti, avvicinatevi, ecco. Perfetto, perfetto, grazie mille. Lo studio legale avvocato Matteo Mangia nato nel dicembre 2018 viene premiato alle fonti awards come Rising Star nel diritto penale. Avvocato Mangia, un commento alla sua vittoria e anche a questo nuovo percorso professionale. Questa vittoria è intanto una grande soddisfazione e soprattutto uno stimolo per continuare a crescere e rimanere a un alto livello di qualità nel mercato del diritto penale. Il mio è uno studio giovane perché non solo è costituito da pochi mesi, ma è anche composto da professionisti abbastanza mediamente giovani. Sono tutti ragazzi molto brillanti e quindi io ho la massima fiducia sul fatto che noi saremo in grado di rispondere in maniera più che soddisfacente alle richieste, alle esigenze del mercato penale che sono sempre più richieste nel senso di una grande qualità, di una grande dedizione ai clienti e di una grande preparazione anche professionale studio. Quindi sono molto ottimista. Lei e i professionisti del suo studio avete partecipato ai più noti processi in tema di disastro ambientale nell'esercizio dell'attività di impresa. È una delle vostre principali aree di competenza insieme a quali altre? Noi abbiamo partecipato a numerosi processi di grande importanza in tema di sicurezza ambiente, amianto, infortuni sul lavoro, anche macroeventi molto drammatici legati all'industria chimica e anche con risultati soddisfacenti, nel senso che sono tutti processi che si sono risolti con delle assoluzioni. Questa è una materia che a me, oltre a stimolare e piacere, dà molte soddisfazioni perché è una materia multisettoriale. Ci sono competenze esquisitamente penalistiche, industriali, in ambito chimico, scientifico, clinico, quindi è una materia che impone un grande studio e una grande preparazione. Poi ci sono tutte le tematiche bancarie, che sono tematiche anche se molto stimolanti, che vanno dai tipici reatti del mondo della finanza, quindi i falsi in bilancio, le manipolazioni del mercato, fino a fenomeni più ordinari come le truffe in ambito bancario-finanziario, tutti i reati del mondo bancario e della finanza. Queste sono le due macro aree in cui lo studio è specializzato. Poi ci sono naturalmente una serie di segmenti più specifici. Mi viene in mente, per esempio, da ultimo un settore che si sta sviluppando, che è quello collegato al mondo dell'arte. È un settore abbastanza anomalo, se vogliamo, per un penalista tipico, ma è un settore che si sta sviluppando molto perché il mondo dell'arte è un mondo poco normato e dove ci sono interessi milionari. Quindi il fenomeno appunto della falsificazione di opere d'arte, di artisti moderni, anche appunto con volumi e con giri di affare enormi, è un settore che ci interesserà nel futuro, del quale noi ci stiamo occupando e che è un altro settore interessante. Ecco, una nuova frontiera del diritto penale di cui il suo studio si occupa è il cybercrime. Come commenta l'attuale normativa e quali prospettive vede in questo settore? Cybercrime ha come caratteristica principale la sua continua evoluzione, nel senso che per la natura stessa che caratterizza il mondo informatico e delle tecnologie c'è un continuo sviluppo sia delle tecniche fraudolente, quindi di attacco al mercato finanziario, sia nelle dinamiche con cui questi fenomeni si sviluppano, che sono dinamiche quasi sempre internazionali. io ricordo tanti anni fa, un primo processo importante in questa materia fu il processo cosiddetto phishing, di cui io mi occupai, che era forse il primo grande processo milanese che riguardava appunto un fenomeno di attacco informatico al sistema bancario, da lì si è fatta tantissima strada, nel senso che sono cambiati anche gli approcci degli hacker, dei criminali informatici. Il sistema finanziario si è dotato nel tempo di protezioni sempre più sviluppate, tecnologiche, adeguate alle varie fasi storiche e quindi oggi si può dire in generale che c'è un alto livello di difesa rispetto a questi fenomeni. Forse se dovessi fare una valutazione direi che proprio per questa ragione, cioè proprio perché la criminalità fa più fatica a superare i sistemi difensivi tecnologici, punta a cercare di modificare l'approccio di criminalità informatica. Molto di recente mi è capitato un caso di truffe informatiche che utilizzavano un sistema molto insidioso perché era quello di simulare richieste da parte dell'autorità giudiziaria. Quindi il destinatario dell'attacco informatico spesso, se non è più che preparato, fa fatica a distinguere la differenza tra richieste legittime e richieste fraudolente perché naturalmente ci vogliono anche competenze giuridiche. Questo è un fenomeno molto molto recente che probabilmente potrebbe farci riflettere sulla necessità anche di fare attività di formazione e di informazione rispetto ai destinatari di questi attacchi che quindi vanno a colpire in qualche modo il timore della persona più che non la debolezza informatica del sistema. Per cui questo per dire che le tecniche di attacco sono in continua evoluzione e l'avvocato deve continuamente essere pronto per dare una risposta efficiente e adeguata al cliente che chiede naturalmente assistenza e consulenza.